Il mondo della scuola si prepara allo sciopero venerdì prossimo a Palermo, manifestazione in Piazza Verdi. Nuovo ride al ristorante Castello a Mare dello chef palermitano Natale Giunta. Arrestato a Ragusa, un pericoloso rapinatore, le sue vittime erano anziane signore. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di martedì 17 maggio. Il mondo della scuola si prepara allo sciopero venerdì prossimo a Palermo, manifestazione in Piazza Verdi con Corteo fino in Prefettura. Vediamo. Il mondo della scuola palermitano e siciliano si mobilita in vista della manifestazione nazionale di protesta venerdì prossimo. A Palermo si terrà un corteo con concentramento a Piazza Verdi alle ore 9 fino in Prefettura dove sarà consegnato un documento con le rivendicazioni al Prefetto. Il contratto da rinnovare, la stabilità del personale scolastico, le modalità della valutazione dei docenti, le modifiche alla legge 107.15, il riconoscimento della professionalità degli ATA, la libertà di insegnamento, il ripristino di corrette relazioni sindacali sono alcuni dei temi per i quali il personale del mondo della scuola tornerà in piazza. I sindacati, a sostegno delle loro rivendicazioni, hanno anche avviato nelle scuole una raccolta di firme che in questa prima tranche ha raggiunto quota 150.000. Per tutti i lavoratori del mondo della scuola rivendichiamo percorsi di valorizzazione professionale e una sburocratizzazione del lavoro, spiegano i sindacati. La stabilizzazione dei tanti precari per i quali nel piano straordinario di assunzioni, nelle procedure concorsuali in atto hanno dato risposta. Una diversa politica degli organici è l'istituzione di un organico funzionale d'istituto per il personale ATA, la cancellazione delle disposizioni che impediscono di sostituire gli assenti e lo sblocco del turnover ed ancora interventi per rimediare agli aspetti più dannosi della legge 107.15 che hanno creato il caos nella scuola. Nuovo ride al ristorante Castello a Mare di Natale Giunta. Alcuni balordi si sono introdotti nel locale dello chef palermitano ed hanno urinato su alcune torte. Nuovo atto vandalico ai danni dello chef palermitano Natale Giunta. Da tempo oggetto di numerose intimidazioni. Le telecamere di sorveglianza hanno inquadrato due persone a entrare venerdì sera all'interno del suo locale. Il Castello a Mare che si affaccia sulla cala di Palermo. L'obiettivo ha immortalato perfettamente due balordi, tirare fuori le torte dal frigo e urinarvi sopra. Un gesto forte di disprezzo, forse l'ennesimo avvertimento che però anche stavolta non raggiunge il suo obiettivo. Lo chef infatti ha già in passato denunciato più volte le ripetute minacce e richieste degli uomini del racket ed anche in quest'occasione ha sporto l'ennesima denuncia. Vorrei anticipare la mia denuncia contro questi elementi che venerdì sono entrati nella mia cucina alle tre di notte. Soggetti indegni. Ha scritto su Facebook dopo aver pubblicato sulla sua pagina le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non so ancora inquadrare la vicenda ma sono allibito, ha detto ancora il cuoco al giornale di Sicilia. Non mi aspettavo tanta violenza. Aggiunta che era fuori Palermo per lavoro lo scorso weekend, è stata assegnata una scorta. Fit Cisle su ex lavoratori Coinress in sciopero della fame dalla scorsa settimana. Subito la loro riassunzione, governo ripristini diritto e legalità. Protestano da giorni con un presidio davanti a Palazzo d'Orleana, a Piazza Indipendenza e portando avanti lo sciopero della fame, circa una quarantina dei 180 lavoratori ex Coinress licenziati tre anni fa dal consorzio che garantisce la raccolta in 21 paesi del palermitano. Nonostante un accordo stragiudiziale siglato con la Task Force per l'occupazione della regione nel 2009 avesse sancito il loro passaggio come dipendenti al lato Palermo 4 e quindi l'acquisizione di tutti i diritti. Per la Fit Cisle tutto avviene violando una legge che impone quali lavoratori devono essere adibiti ai servizi di igiene ambientale in Sicilia, quelli cioè provenienti dagli ato. Più volte abbiamo puntato il dito, dicono i sindacati, contro l'incapacità di governanza dimostrata dall'esecutivo regionale sul sistema rifiuti in Sicilia. Riteniamo sia un banco di prova per il governatore Crocette e il suo assessore all'energia e rifiuti vania contrafatto, ripristinare la legalità, la legittimità e la dignità a questi lavoratori oggi abbandonati e affamati. I sindacati concludono se realmente il governo regionale vuol far prevalere il diritto rimette immediatamente in servizio i 180 ex lavoratori CoinRes. La protesta in piazza indipendenza continuerà fino a quando non rientreranno tutti in servizio. E' stato arrestato a Ragusa un pericoloso rapinatore, le sue vittime erano anziane signore. I carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno arrestato un sessantenne Giuseppe Seminara con precedenti penali, ritenuto responsabile di una violenta rapina in abitazione con sequestro di persona in danno di due donne anziane, sorelle della figlia disabile di una di loro e della loro badante di nazionalità rumena, residenti a Marina di Ragusa. Il fatto è accaduto a giugno del 2015. Di notte, con il volto travisato, dopo aver forzato la porta d'ingresso, due malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione situata in una zona periferica della cittadina. Le quattro donne, prima che potessero rendersi conto dell'accaduto, vennero immobilizzate e legate alle sedie con il nastro adesivo. Per circa un'ora furono ripetutamente malmenate e minacciate di morte per rivelare dove fossero custoditi loro i gioielli. La re furtiva ebbe un valore di oltre 16.000 euro. Con grande difficoltà, le donne, considerata anche la loro età avanzata, riuscirono poi a liberarsi e chiedere l'aiuto dei carabinieri. A permettere ai militari di risalire all'uomo è stata la carta bancomat rubata, visto che circa un'ora dopo la rapina, i malviventi effettuarono un prelievo da 500 euro presso uno sportello di comiso. Poi, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire a Giuseppe Seminara, che è stato arrestato. Rimborso ZTL. Stamattina a Palermo ha preso il via la consegna degli assegni, ma finora solo 13.265 cittadini, sui circa 25.000 che avevano pagato, hanno chiesto di riavere i soldi indietro. Ha preso il via stamattina la consegna allo sportello degli assegni di rimborso per quanti avevano già provveduto a comprare il pass per la zona traffico limitato di Palermo. I soldi vanno ritirati in via Giusti e in via Borrelli, previo appuntamento, orario e data vengono spediti via SMS al richiedente. Soltanto 13.265 cittadini su 25.000, però fino a questo momento hanno fatto richiesta per la restituzione dei 100 euro spesi per mettersi in regola. Hanno richiesto l'assegno allo sportello 1.334 cittadini, l'assegno a domicilio 1.678, mentre hanno scelto la formula del bonifico in 10.253. L'altra metà dei cittadini che ha pagato invece non ha ancora richiesto il rimborso, probabilmente perché in attesa di sapere cosa deciderà il CGA, che tra il 25 e il 26 maggio si pronuncerà sul ricorso presentato da Amat e Comune di Palermo contro la decisione del Tar di sospendere l'avvio della zona traffico limitato fino a novembre. Ad ogni modo, chi non ha avanzato richiesta di rimborso potrà usare il credito per altri servizi Amat, come gli abbonamenti, oppure per la prossima, finora soltanto annunciata, ZTL. Al porto di Palermo ripartono i lavori nel bacino di carenaggio da 150.000 tonnellate. Vediamo. I lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio da 150.000 tonnellate, parzialmente sospesi per problematiche ambientali, sono ripartiti a pieno regime. Dal 9 maggio scorso al lavoro la società Trevi e Seppià di Cesena, che ha vinto la gara d'appalto dell'autorità portuale di Palermo. I lavori in corso riguardano il consolidamento di tutti i cassoni di sponda, mentre gli step successivi prevedono la bonifica dei fondali del bacino, lo suotamento è lo stesso e le necessarie verifiche sulle strutture esistenti realizzate negli anni 90. Servirà circa un anno per la conclusione del cantiere. Il finanziamento dell'opera è stato previsto tra i fondi della legge 166 del 2002 per un importo di 24 milioni all'ordo degli interessi per l'accensione del mutuo. Il progetto esecutivo è stato redatto in variante al progetto definitivo approvato e comporta un importo complessivo di poco più di 25 milioni. Siamo soddisfatti, spiega Vincenzo Cannatella, presidente dell'autorità portuale di Palermo. Per questo passo avanti, gli interventi strutturali avviati dall'autorità serviranno al consolidamento delle fondamentali infrastrutture che una volta ultimata consentirà nuove opportunità nel campo della riparazione e della trasformazione. Il bacino da 150 mila tonnellate infatti permetterà il potenziamento dell'attività cantieristica. Lapsoriasi è una malattia spesso sottovalutata, non diagnosticata e con un forte impatto sulla vita sociale e psicologica. Nel paese ne sono affetti oltre 2 milioni di italiani, di questi 150 mila in Sicilia di cui circa 20 mila solo a Palermo. Per mettere in luce questo preoccupante fenomeno, Palermo ha ospitato oggi la seconda tappa del road show del progetto Contatto. Vediamo. È da anni che gli ordini dei medici, qua presenti e anche altri presidenti degli ordini della Sicilia combattiamo su questo fronte e talvolta la non corretta comunicazione da parte del medico nei confronti del paziente quando deve comunicare una malattia che nel caso specifico è lapsoriasi che è visibile a tutti, è una mancanza che va corretta. Su questi gli ordini insistono e per questo danno ospitalità a questi progetti quindi si va al di là della cura in senso stretto ma quello che è il rapporto di fiducia non si parla di alleanza ma di fiducia medico-paziente. Ormai ci sono i nuovi farmaci biologici che sono dei farmaci avanzati tecnologicamente che sono molto utili per il paziente. C'è solo un piccolo particolare, bisogna stare molto attenti ad utilizzarlo nel senso che è indispensabile fare un check up generale del paziente dopodiché si possono utilizzare con ottimi risultati. Generalmente la patologia può risolversi già nel giro di sei mesi o perlomeno portare a una guarigione clinica ovviamente la psoriasi è una malattia infiammatoria cronica quindi significa che tende a ritornare nel tempo però si può ben convivere con questa patologia. Grande entusiasmo a Villa Abate per la manifestazione la scuola adotta un monumento. Sono felice di partecipare a questa manifestazione ho visto tutti i lavori che hanno realizzato i bambini che sono veramente dei grandi artisti per cui insomma sono felice che il mio monumento praticamente abbia suscitato questo interesse da parte dei bambini speriamo che grazie a questa manifestazione insomma ci sia da parte di chi ne ha la competenza di un miglioramento del sito dove si trova il monumento che è leggermente insomma un po' andato diciamo. E' stato effettuato un progetto di educazione alla legalità di studio del territorio soprattutto di quelle parti di Villa Abate sconosciute o invisibili perché devastate dal tempo e dall'incuria i bambini si sono appassionati anche i docenti e hanno voluto lanciare questo urlo disperato di recupero si sono commossi, hanno fotografato dopo aver fatto le riprese fotografiche anche filmati hanno rielaborato tutti i materiali facendo dei disegni facendo dei plastici anche scrivendo dei pezzi dedicati ai monumenti alcuni semplicemente descrittivi un progetto di ampio respiro che viene svolto in tante città d'Italia e che qui è alla seconda edizione quest'anno ha avuto un successo strepitoso tantissime classi hanno aderito al progetto scolastico che l'amministrazione ha proposto coinvolgendo tantissimi bambini tantissimi insegnanti e producendo dei lavori meravigliosi sono veramente molto orgogliosa della partecipazione che c'è stata e spero che questo progetto come gli altri che abbiamo alla fine promosso in questo anno o in questo primo anno dell'amministrazione Oliveri sia servito da stimolo per le nostre nuove generazioni a Villa Abate il nono torneo di solidarietà ali per volare siamo qui ancora dopo nove anni per usufruire dalla grande accoglienza di questi ragazzi di queste persone che organizzano questo torneo che ci consente di avere un contributo necessario per portare avanti una missione importantissima che è quella di andare a salvare tanti bambini dentro la foresta quatoria del Congo una distanza veramente notevole difficile da raggiungere che possiamo realizzare soltanto con il contributo della gente e con il cuore della carità della gente quindi siamo qui veramente a dire grazie ancora una volta perché con questa solidarietà si potranno comprare vaccini medicinali attrezzature mediche e soprattutto portare dentro la foresta i medici con gli infermieri e gli operatori sanitari che sono in quei posti sono veramente impossibili da trovare quest'anno è il primo anno che partecipo al torneo siamo felici di partecipare insieme ad altre società di Palermo e provincia a questo torneo è sempre un modo di aggregazione di socializzazione con tutti e in più partecipiamo a uno scopo importante che è uno scopo benefico per i bambini della foresta equatorale e del Congo e quindi ancora di più oltre ad esserci l'aspetto ludico per i bambini che comunque si confrontano nel gioco del calcio in più abbiamo un altro scopo che è lo scopo di aiutare altri bambini che in questo momento hanno tanti altri problemi quindi facciamo sì anche nel nostro piccolo di poterli aiutare e avvicinarsi un pochettino alla vita che fanno i nostri ragazzi qui in Occidente è chiaro che lo spirito è quello di beneficenza sicuramente siamo tutti in mobilitazione della società sia allenatori, dirigenti, un pochettino tutto lo staff ci mobilitiamo in massa perché sicuramente lo scopo è molto importante e per questo l'impegno e il sacrificio di tutti vale la pena è tutto, grazie per l'attenzione come sempre appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti